la rondine e il serpente una rondine che aveva fatto il nido in un palazzo di giustizia era volata fuori allora un serpente strisciando si avvicinò al nido e mangiò i rondinini quando la madre ritornò trovato a vuoto il nido si mise a gemere molto dolorosamente siccome un'altra rondine per consolarla le diceva che non era la sola che avesse avuto la cattiva sorte di perdere i suoi piccoli essa rispondendo le disse ma io non piango tanto per i figli quando perché ho dovuto subire tale ingiustizia in questo luogo nel quale quelli che soffrono ingiustizie trovano un aiuto la favola dimostra che spesso le disgrazie per chi le subisce sono più difficili da sopportare quando li vengano da coloro dai quali non se le aspettavano minimamente